Mamme e anche qualche papà, tutti alla ricerca della mensa perduta. Accade a Chieti dove 1500 bambine e bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie, quattro i comprensivi coinvolti, attendono l'attivazione della mensa mai partita. Ad esprimere vicinanza ai genitori anche la consigliera regionale Sara Marcozzi. Una protesta c'è già stata ieri, oggi il presidio bis davanti la scuola primaria Cesari. Noi vogliamo una soluzione, noi vogliamo che qualcuno si prenda la responsabilità di far partire in qualche modo una mensa privata, esterna, che noi genitori paghiamo, che comunque è valida, per poter dare ai nostri figli un pasto sano e caldo. Ma è possibile? Non c'è bisogno di un bando? E adesso questo non siamo noi a doverlo decidere, comunque dovrebbe esserci qualcuno che si prenda la responsabilità di vedere come fare. Allo stato attuale i genitori si armano di tanta pazienza per preparare il pasto ai propri figli che, lo ricordiamo, hanno un'ora per mangiare con uscita alle 16. Ma fino a quando? Attualmente i ragazzi arrivano con un pasto da casa, non più il mio, perché io ho deciso di spostarlo. Sono qui continuo a perorare la causa perché è vergognoso che non abbiano un pasto sano, non solo caldo, ma qua parliamo di un livello microbiologico a rischio per i nostri bambini, che hanno un apparato gastrointestinale in fase di accrescimento e quindi non è paragonabile a quello di un adulto e la carica microbica che possono contenere questi alimenti conservati male è altissima. Quindi ci stanno facendo mettere a rischio i nostri bambini ogni giorno. Avete protestato anche ieri, andrete avanti fino a quando? Si andrà avanti fino a quando non si troverà una soluzione. Ovviamente è una situazione di emergenza, non si è verificata mai prima, l'appalto è stato revocato, il comune è in dissesto e le dirigenti si devono mettere in prima persona per cercare di trovare una soluzione, perché come l'hanno trovata per far entrare un pasto da casa, possono trovarla in un'altra situazione. Questo è quanto.